Dopo un solo giorno di scuola sono già 15 gli studenti positivi nelle scuole bassanesi. Il virus circola sempre più velocemente ora che la variante Omicron è predominante. Sono ancora 750 ogni giorno le persone contagiate nell'Ulcette Pedemontana e i ricoveri invece rimangono costanti. Al momento le classi che prima di Natale erano in quarantena hanno concluso l'isolamento con le festività natalizie. Ora il Dipartimento di Prevenzione sta applicando le nuove regole per gestire l'ondata di positivi. È una fase delicata perché stiamo anche mettendo a punto da punto di vista operativo l'applicazione delle nuove linee guida di intervento che prevedono una diversificazione rispetto al tipo di scuola, infanzia, primaria e secondaria e anche rispetto alle condizioni del soggetto se vaccinato con ciclo completo oppure no. Nelle scuole dell'infanzia, visto che non si possono utilizzare dispositivi di protezione, le classi andranno in quarantena per dieci giorni con un solo contagiato. Dovranno invece essere due per elementari e medie, tre alle superiori. Nel 2021 sono state 2.351 le classi in quarantena con 47.000 persone coinvolte. Più della metà dei casi sono avvenuti negli ultimi tre mesi dell'anno perché le varianti sono diventate più contagiose. Visto l'andamento dei contagi ci aspettiamo un forte impatto e quindi un forte lavoro anche di contenimento per cercare di arginare la diffusione. E dopo mesi il virus è ritornato anche nelle case di riposo. Nella prima e nella seconda ondata il Covid aveva causato 320 decessi tra gli ospiti della RSA dell'azienda sanitaria. Ora sono 5 i focolai, 3 nel distretto 1, Casa Betania, Casa Sterni e la Madonnina. 24 gli ospiti e 50 gli operatori positivi, ma per nessuno è stato necessario un ricovero in ospedale. Sicuramente questo effetto è effetto della vaccinazione. Alcuni soggetti vaccinati sono stati contagiati, ma gli effetti e quindi la sintomatologia in questi soggetti non è stata fino ad oggi importante, testimoniato appunto della mancanza di ricoveri ospedalieri conseguentemente ai casi che hanno contratto l'infezione.